Il tuo consulente Agrometri dà il benvenuto su Agronotizie. Il tempo previsto fino al 10 agosto. Ebbene, sull'Italia si è insediato da molti giorni un robusto anticicolone nordafricano il quale ha dato luogo ad una ondata di caldo che da lunedì è diventata piuttosto intensa e tale resterà fino a domenica prossima. Per quanto riguarda il caldo intenso, riteniamo che questa ondata di caldo sarà la più intensa di quest'estate. Ma andiamo a vedere i valori. Mediamente noi avremo valori massimi fino a domenica intorno a 35-38 gradi su Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Malese e Campania, 38-41 su Mantovano, Veneto, Emilia, Romagna, interno del centro-sud e isole maggiore. La durata? Bene, durerà fino a lunedì 7 circa al nord, mercoledì 9 al centro, giovedì 10 al sud. Per quanto riguarda i fenomeni, sono solo previsti temporali sulle Alpi nella giornata di domenica. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci. Dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di Cassa Tua.